Ciao tifosi napoletani! Giovanni Manna sta per completare la firma di un importante rinforzo voluto da Antonio Conte. Quindi resta con me fino alla fine di questo video per non perdere le ultime novità. Per Giovanni Manna sono state giornate difficili, soprattutto perché i tifosi cominciano a mostrare insofferenza nei confronti della società. L'insoddisfazione dell'allenatore sarebbe diventata il fattore principale per un'azione più decisa sul mercato. Il prossimo trasferimento potrebbe essere prossimo alla conclusione, con l'agente del giocatore già in città per definire la trattativa. Secondo il noto quotidiano portoghese Vabola, l'agente di David Neres, Giuliano Bertolucci, sarebbe a Napoli proprio per chiudere la trattativa. Il Napoli è disposto a offrire un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione pur di convincere il giocatore ad «accettare la proposta». Inoltre, il Napoli avrebbe presentato al Benfica un'offerta di circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Intanto il Napoli ha scelto Scott M. Cito Minai del Manchester United dopo la delusione per la perdita di Brescianini. M. Cito Minai, 27 anni, potrebbe lasciare il Manchester United mentre entra negli ultimi mesi del suo contratto. La sua valutazione però è alta, intorno ai 30 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport. Infine, Jens Cajuste, dopo il fallito trasferimento al Brentford, si appresta a raggiungere la Premier League con un altro club. Gianluca Di Marzio ha rivelato che Cajuste è molto vicino all'Ipswich Town, anche se il suo trasferimento non è ancora ufficiale. Di Marzio ha rivelato a raggiungere la grandda risjar